Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Allora, arriverà a breve un contenuto molto importante, molto speciale per me. Lo sto preparando, quindi rimanete sintonizzati, spero di riuscire a portarvelo già in settimana, sarebbe veramente molto molto bello. Prima però voglio parlarvi di alcune riflessioni sul capitolo di One Piece 1116, vado a memoria ma dovrebbe essere corretto questo numero, perché secondo me stiamo iniziando ad entrare nel vero finale della storia, stiamo veramente facendo un tuffo di testa in quello che Oda ha pensato e ha pensato da tanto tempo e dobbiamo soltanto iniziare a unire i pezzettini. Io vi ho già spiegato come secondo me purtroppo finirà One Piece e dico purtroppo perché immagino che possa finire in una maniera abbastanza scontata. Ne ho parlato in un video e se volete vederlo ve lo lascio qui sopra nelle schede. Intanto c'è una piccola rivelazione, anzi un piccolo collegamento, dato che in passato qui sul canale vi ho parlato di una sorta di ispirazione che siccome Oda ha tratto dal primo film dei Pokémon e per quella che era la vera trama giapponese del primo film dei Pokémon, ecco abbiamo individuato il personaggio a cui Oda si è ispirato guardando Mewtwo perché Stussy con questo discorso legato un po' all'etica, legato alla vita, legato al fatto di avere una determinata personalità mi ha davvero ricordato tantissimo Mewtwo e la famosa frase il modo in cui si viene al mondo è irrilevante è quello che fai del dono della vita che stabilisce veramente chi sei, quindi Stussy non è soltanto un clone, non ha soltanto i tratti di personalità della persona che era in origine, quindi la madre di Weevall, bensì ha una sua comunque struttura, una sua personalità ed è quello che poi andrà a caratterizzare la sua persona, dei tratti umani anche se è stata creata in laboratorio. Per parlare della tematica che voglio affrontare oggi, quindi delle armi ancestrali, c'è bisogno di fare una sorta di recapino sono andato a prendermi alcuni capitoli abbastanza vecchiotti anche di One Piece, quindi Gli Isoli Uomini Pesce e Zunesha, quindi Zou e sono andato a vedere quelli che erano i momenti in cui Rufy sentiva la voce di tutte le cose voce di tutte le cose che sappiamo hanno sentito anche Roger e ovviamente Kozuki Oden e avevano questi momenti in cui in determinati frangenti avevano delle voci nella testa che dicevano qualcosina, gli sussurravano alcuni segreti. Rufy quando sta per distruggere Noa diretta verso l'Isoli Uomini Pesce che si stava schiandando e stava distruggendo tutto, sente un fermala e poi si ritrova Shiraoshi a protezione di Noa di fronte con Rufy che dice spostati, devo distruggerla, sennò distruggerà l'Isoli Uomini Pesce e Shiraoshi dice no fermati tranquillo non c'è problema, sono arrivati i re del mare e hanno spostato la nave, siamo salvi, Noa è stata fermata. E poi abbiamo questo dialogo dei re del mare che conoscono Noa, sanno l'importanza di Noa e parlano di Rufy, gli stessi re del mare che quando Roger e Oden sono arrivati sull'Isoli Uomini Pesce parlavano della profezia della nascita della principessa sirena, di quanti anni mancano eccetera 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 e i re del mare sono lì che dicono siamo arrivati principessa per via di un forte sentimento che hai provato nei confronti di questo giovane e quindi abbiamo scelto di prestarti la forza anzi di prestare a questo giovane la forza perché è stata una tua richiesta. Noi sappiamo per certo che Poseidon, Shiraoshi è Poseidon, la principessa sirena c'è questa linea di sangue che viene tramandata in tante generazioni, non sempre e quindi questo è il momento in cui è rinata questa arma ancestrale lo sappiamo per certo ed è l'unica vera arma ancestrale che conosciamo e poi sappiamo che oggi anche Barba Nera ha un po' di dettagli inerenti alle arme ancestrali per via di Caribou che aveva ascoltato quasi a mo' di meme tutte le conversazioni di Strohet e oggi Barba Nera nella sua ciurma ha pure la faccia di uno degli astri di saggezza e potrebbe pure entrare a mare Joa, ma ci arriviamo dopo. Perché? Perché dobbiamo parlare di Oden? Abbiamo i suoi vassalli che durante la saga di Zou dicono testuali parole le ultime parole che ci ha detto Oden, che poi abbiamo visto pure nel flashback sono state aprite i confini di Wanokuni Momo però non volle aprire i confini di Wanokuni perché? Perché ha letto il diario di Oden il diario che gli era stato portato da Yamato tra l'altro abbiamo gli astri di saggezza che immaginano che questa sia stata una fine strategia di uno dei cervelli militari presenti all'interno del gruppo dei pirati, dei samurai eccetera eccetera invece è un bambino che semplicemente dice no, non è ancora il momento, lo faremo più avanti. Quando arrivano su Zou Rufi e Momo nel momento in cui Zunesha viene attaccato dagli uomini di Jack hanno questa sorta di collegamento mentale dove Zunesha dice ma sei veramente tu? Se sei veramente tu ti prego fai presto presto ti prego comandami e allora Rufi dice comandarti ma io non posso comandarti io posso soltanto ascoltare e invece Momo ha questa visione di Jack che attacca Zunesha praticamente e allora lì Rufi capisce che non è lui lui sente soltanto ma non può rispondere invece Momo sì e Zunesha continua e dice in un tempo remoto in un tempo remoto è per questo che mi dava il permesso dammelo ancora solo per una volta comandami permettimi di combattere Momo urla a Zunesha sì va bene fallo e Zunesha attacca Jack con la proboscite e lo manda sott'acqua quindi abbiamo Momo che comunica con Zunesha lo fa anche quando Rufi va in Gear 5 ed è lì che Momo scopre che Rufi in realtà è Joy Boy lo stesso Joy Boy che aveva quel patto quel rapporto proprio con la principessa sirena lo stesso Joy Boy che aveva un ottimo rapporto con gli uomini pesce Joy Boy ovviamente una figura legata al simbolo dei Kozuki Kozuki legati al secolo vuoto perché sono stati loro a creare i Ponyagrif e quindi la scrittura a caratteri antichi e iniziamo a capire che c'è abbastanza un collegamento tra tutti questi popoli poi abbiamo quella profezia famosa della distruzione degli uomini pesce che mi ricorda un pochettino Momo che non vuole aprire i confini non è una cosa che non succederà semplicemente questo non è il momento adatto un po' come Roger che arriva su Raftel su Raftel se chiamiamolo Raftel nel momento sbagliato semplicemente non è che non doveva arrivarci doveva arrivarci un altro momento non era lui l'uomo giusto perché il momento non era ancora arrivato e abbiamo Zunesha appunto che parla con Momo e gli parla di Joy Boy e abbiamo il robottone che proprio quando Joy Boy si risveglia sull'isola di Aghed si sveglia pure lui ed è collegato pure lui a Joy Boy quindi abbiamo questa serie di combattenti possiamo dire così di figure del passato legate a Joy Boy che si attivano in determinati momenti parlano di determinate cose conoscono determinate cose così come i re del mare voglio fare un passo indietro quando iniziamo a sentire parlare di armi ancestrali è in occasione della saga di Alavasta perché c'è Crocodile che ingaggia Nicorobin perché è in grado di leggere i Pony Griff e vuole trovare la precisa ubicazione di Pluton ed è Crocodile che ci dice che Pluton è nascosta da qualche parte nel regno di Alavasta in realtà noi sappiamo che Pluton è nella Wano sotterranea ed è lì costudita ed è lì che non sono stati aperti i confini di Wano proprio per tenere nascosta Pluton domanda perché Crocodile ha sbagliato? ci sono due risposte una semplicemente Oda ha cambiato idea e quindi all'epoca aveva in mente di nascondere Adalavasta e dato che si può semplicemente riassumere in un vabbè Crocodile avrà avuto delle informazioni errate e quindi non è Adalavasta oppure quel vecchio cuore di Oda aveva già pensato tanti anni fa a qualcosa di più a qualcosa di più perché vi dico questa? perché l'altro giorno quando ho visto la blind reaction del re quando si parla di Lulusia e della distruzione tramite un'arma ancestrale il re ha detto ecco è sicuro al 100% che è Uranus e questa cosa mi ha fatto ridere perché oggettivamente noi non abbiamo la certezza che la cosa che ha distrutto Lulusia sia effettivamente Uranus lo facciamo per un discorso logico se Poseidone Sirahoshi e se Plutone è Awano ne rimane fuori una ed è Uranus e se Oda ci stisse anche un po' trollando con questa cosa sicuro un'arma ancestrale però dubbio che mi viene sono tre noi sappiamo che sono tre ma non è che è stata creato che è stato poi generato qualcosa simile a un'arma ancestrale o per ricalcare il potere delle armi ancestrali dico questo perché abbiamo visto che la cosa chiamiamola arma chiamiamola arma ancestrale oggettivamente che ha distrutto Lulusia lo ha fatto tramite il Mother Flame che è una sorta di combustibile però quel combustibile è stato una sorta anche di trigger per innescare l'attivazione di questa arma ancestrale che ha eliminato Lulusia noi conosciamo solo Poseidon e abbiamo visto che il trigger per attivare Poseidon il potere di Poseidon è stato appunto questo legame con quello che all'epoca non era Joy Boy ma era Joy Boy no? e se fosse necessaria una persona per attivare tutte le armi cioè non è necessario soltanto avere l'arma Pluton che è lì chi se ne frega il problema è che se parte Pluton allora dobbiamo avere questi progetti dati alla famiglia dei Carpentieri Water Seven poi distrutti da Franchi in grado di combattere quel potere ma non solo non solo Pluton di per sé ma Pluton attiva non è che serve una persona per accendere le armi ancestrali non è che serve un trigger un comando un qualcosa che il Mother Flame è andato a sostituire non è che il Mother Flame può essere legato davvero a dei Lunariani dato che è una fiamma un po' come la fiamma dei Lunariani ci sono i Serrafini che hanno questa fiamma non è che serve magari qualcosa per accenderle queste armi e magari quella cosa che ha distrutto l'Use è sì un'arma ancestrale ma non di quelle che già conosciamo o magari sì magari è davvero Uranus e qui ci stiamo facendo un viaggio ma perché io vi dico questo perché questo è sicuramente una grandissima sega mentale ed è molto probabile se non quasi certo che quella cosa che ha distrutto l'Use sia effettivamente oggettivamente Uranus che si attiva tramite il Modern Flame però abbiamo questa strana ossessione di Imu per la famiglia Nefeltari e abbiamo visto che c'è questo quadro della principessa che sembra Vivi eccetera eccetera abbiamo però anche Crocodile che salta fuori proprio nella saga di Alabasta dove c'è Vivi che deve proteggere il suo regno e allora noi sappiamo che in realtà il finale di One Piece che cos'è il One Piece eccetera eccetera Odala ha deciso quando è iniziato il manga trent'anni fa e quindi mi viene a dire che nel momento in cui è stata scritta la vasta Odala avesse già ben chiaro in mente per forza di cose il finale di One Piece l'importanza della famiglia Nefertari anche se Vivi ci viene presentata come un'agente della Baroque Works però poi c'è la necessità quando arrivi lì a fare questa retcon di Vivi la famiglia Nefertari le armi ancestrali eccetera eccetera sapere in che direzione vuoi andare quindi le armi ancestrali devono per forza di cosa essere collegate al One Piece a maggior ragione se come vi dicevo nell'ultimo video il fine ultimo è quello di distruggere la Red Line e creare l'All Blue una sorta di Pangea che possa unire tutti i popoli del mondo bla 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 vuol dire che comunque quel momento lì qualcosa di chiaro c'era e allora se non fosse un errore quello di Crocodile traduco se Shirahoshi attiva il potere di Poseidon che comanda i Re del Mare e se Momo è in grado di attivare Uranus magari che non abbiamo ancora visto e se Crocodile parlava di Pluton non per la locazione ma per la persona è in grado di attivare Pluton e cioè Vivi perché qui stiamo parlando comunque di tre principi o principesse chiamateli come volete tre re di al trono tutti collegati a quella che era la figura di Joy Boy e tutti collegati anche alla figura di Rufy che ha aiutato all'interno dei loro regni per risolvere le situazioni bla 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 sarebbe interessante capire se Zunesha è in grado di rispondere a tutti o se è in grado di parlare soltanto con Momo cioè perché Zunesha dice Momo comandami e Rufy dice no io non posso farci niente se tu che lo comandi cioè se quella cosa che ha distrutto Lulusia non fosse un'arma ancestrale delle tre famose ma ce ne fosse una quarta che oggi non è ancora saltata fuori e basta e serve un modern flame o qualcosa di inerente a un lunariano per accenderla e se fosse veramente Zunesha Uranus controllato da Momo Siraoshi controlla il potere di Poseido e Vivi controlla il potere di Pluton cassata gigante perché è una cassata gigante però mi ha dato un po' noia sempre questo discorso di Momo che comanda Zunesha Vivi che comanda il re del mare scusate Siraoshi che comanda il re del mare e Vivi che è sempre più parte della trama con Crocodile che si era sbagliato vabbè dalla vasta a Wano bene o male ci siamo chi gliel'ha detta quella fregnaccia è stato quello stronzo che gli ha detto sta roba qui e lui si è fatto tutto il viaggio anni e anni di ricerche mettere sulla barogorsa arrivare lì e fare tutti dei progetti piani per una roba che poi è pure falsa cioè sembra un errore un po' grande ci sta che Oda poi cambia idea però tutta la saga della vasta poi perde anche un po' di interesse di senso di significato eccetera eccetera lo stesso Crocodile l'abbiamo visto nell'ultimo nell'ultimo capitolo ascoltare il fatto che ci siano tre armi ancestrali parola di Vegapunk però un po' questa roba non mi torna tra l'altro proprio nell'ultimo capitolo anzi negli ultimi capitoli stiamo continuando a vedere le reazioni dei vari Momonosuke Shiraoshi Vivi compaiono negli ultimi 3-4 capitoli 2-3 capitoli vediamo sempre queste figure vediamo tutta la panoramica del mondo certo però anche nell'ultimo capitolo abbiamo visto tutti tranne Vivi ma abbiamo visto il ritratto di Lili che assomiglia a Vivi nel capitolo precedente abbiamo visto Vivi insieme a Morgans e a Wapol non abbiamo visto Shiraoshi ma abbiamo visto l'inabissamento del mondo e quindi ci si collega gli uomini pesce c'era Momol l'ultimo capitolo c'era Momol il penultimo capitolo e non solo non solo quando scopriamo che Momonosuke non è figlio di Kinemon ma è figlio di Oden Kozuki e quindi tutto il discorso legato ai Ponegr tutto il discorso legato al secolo vuoto i Kozuki che hanno scritto i Ponegr bla 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 due capitoli dopo abbiamo quella panoramica del mondo che ci prepara a Reverie in cui vediamo proprio Vivi e Shiraoshi che poi si incontreranno a Reverie non so inizia un ci sono quelle due tre robe che mi danno anche un po' di vibes dei film Disney i principi le principesse che hanno quei poteri collegati proprio alla figura di Rufi che in realtà è Joy Boy non mi sorprenderebbe sapere che serve qualcuno per commentarle lo stesso Momo dice io non posso morire dopo aver letto il diario di Oden perché Momo non può morire perché deve aprire i confini di Uano certo e se fosse qualcosa di più cioè Momo apre i confini di Uano perché poi c'è qualcuno che li comanda e lui è in grado poi di essere una delle armi nella battaglia finale non lo so alcune cose qui che mi passano per la testa con magari il governo mondiale che ha cercato di costruirsi qualcosa in grado di essere forte come le armi ancestrali anche perché la domanda sorge spontanea perché il governo mondiale dovrebbe avere una delle armi ancestrali che sono roba da Joy Boy sono da parte di Joy Boy lo stesso Vegapunk si domanda ma alla fine chi era il buono chi era il cattivo perché Joy Boy aveva queste armi c'è qualcosa che non torna nella narrazione non può essere solo un discorso filosofico di cerchiamo di capire chi era il buono chi era il cattivo secondo me c'è qualcosa che ancora non ci è stato raccontato e sulle armi ancestrali sono davvero convinto che serva non solo l'arma ma anche la persona in grado di innescare il trigger fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti grazie a tutti grazie a tutti